Spalletti, buonasera. Che cosa si differenzia questa partita rispetto alle altre? In pochissime cose, perché qualsiasi partita diventa difficile, questa probabilmente è qualcosa di più per quanto riguarda quel discorso sul condominio che avevamo fatto tempo fa, perché diventa uno scontro diretto proprio in funzione dei condomini di quella roba lì. E poi perché sarà una partita tutta da gustare da un punto di vista tattico, da un punto di vista di forza dei calciatori che si contenderanno il risultato della partita. E tre punti sono sempre poi un bottino da portare a casa e che fa comodo. Sport Italia. Buonasera mister, innanzitutto mi ha fatto piacere rivederla in bici sfrecciare, sprintare qui a Castelvolturno. Allora le propongo questa metafora ciclistica. Innanzitutto il Napoli che tipo di ciclista è? È nel girone di ritorno che Napoli si aspetta? Un Napoli da testa sotto e pedalare o che avrà anche l'opportunità ogni tanto di girarsi e vedere gli avversari alle spalle? Napoli è un ciclista che sa di doversi confrontare durante quello che è il percorso del viaggio con ciclisti altrettanto forti se non più forti e di conseguenza deve imparare a star ritto sui pedali. Mai seduto perché da seduto si spinge meno e di conseguenza c'è da pedalare forte sempre fino in fondo al percorso. Nel girone di ritorno che è Napoli Ah sì, si è già risposto. Radio Chischis Questo suona secondo me è alto. Questo fischio si può togliere? Tra un po' con questo? Sì, sì. L'hanno tolto. Radio Chischis Allora mister, buongiorno innanzitutto. Oggi sulla Gazzetta ci sono due pagine dove c'è il ritratto di Luciano Spalletti incrociato anche con quello di José Mourinho e mi ha colpito una frase, allora volevo sapere se più o meno si riconosce nella frase di Giancarlo Dotto che scrive, eccola qua se la trovo, eccola qua Lucio ama i suoi giocatori, li ama a prescindere solo per il fatto che sono suoi, che giocano e si battono per la causa comune poi Lucio trasmette la sua passione ai giocatori, questa è la sua forza, glielo fa capire in tutti i modi quanto ci tiene alla loro felicità, è così? Sì, secondo me è stato bravo, anzi mi ha fatto, io lo devo ancora leggere, me l'hanno detto però io non ho avuto tempo fino a questo momento, l'allenamento e dopo conferenza lo devo ancora leggere però questa è una cosa che sicuramente mi fa piacere Corriere dello Sport Eccomi qua, buongiorno è difficile ignorare la realtà con 12 punti di vantaggio sulla seconda, l'allenatore che fa? Dice bravi ai calciatori perché hanno vinto l'ultima partita a Salerno in una situazione non facile perché per noi come sappiamo è sempre un derby, abbiamo visto la fatica che abbiamo fatto l'anno scorso a giocare questa partita qui abbiamo visto quest'anno quanta difficoltà abbiamo avuto nel primo tempo a passare in vantaggio abbiamo visto la Salernitana che dopo di noi è andata a vincere a Lecce per cui gli si dice bravi poi che i risultati degli altri non dipendono da noi e di conseguenza il nostro comportamento deve essere sempre quello lì fatto di di grandi partite di comportamenti umili di attenzione a fare un passo alla volta concentrandoci su quello che è il comportamento la postura facendo questo passo l'attenzione di dove si mette il piede magari togliendosi il fascino della meta perché bisogna pensare al lavoro quotidiano senza andare a guardare troppo distante da quello che è la realtà immediata si focalizza bene questa cosa qui e si sta attenti che nessuno abbia qualche comportamento più leggero di quella che è la leggerezza che bisogna avere nel giocare al pallone per fare un buon calcio che abbiamo usato diverse volte però che che si mantenga quella quella serietà e quella professionalità e quell'applicazione nel fare degli allenamenti come abbiamo sempre fatto fino a questo momento Repubblica si eccomi buonasera volevo chiederle che tipo di Roma si aspetta domani molto difensiva e quasi remissiva come era andato o magari più intraprendente grazie mi aspetto una Roma che ha dentro grandi calciatori e che ha un allenatore molto pratico e molto concreto che riesce bene a far capire ai suoi calciatori quali debbono essere i comportamenti dentro la partita hanno calciatori di gamba non bisogna mai pensare a quello che può essere un discorso tipo stiamo gestendo la partita la partita ce l'abbiamo in mano noi e pensare che l'inerzia sia dalla nostra parte perché loro come qualità hanno questa o hanno dei calciatori tipo di bala che sanno sfruttare la gamba di dei compagni di squadra ci sono calciatori di gamba che sanno attaccare bene gli spazi e che poi ti impongono ad andare a ricomporre la fase difensiva distante da dove perdi palla e questi sono sono rischi a cui noi dobbiamo stare molto attenti ecco sanno far correre il pallone e sanno anche correre dietro al pallone alcuni hanno una squadra una squadra concreta una squadra che che sa che cosa vuole dalle partite sa bene scegliere gli episodi che gli possono portare dei vantaggi in quegli episodi lì danno tutte le qualità che hanno per cui diventa una partita pericolosa se non si è bravi a mantenere quell'equilibrio che si dice sempre a tentare di fare la partita perché poi c'è da vedere se ci si riesce e allo stesso tempo essere sempre in ordine per per andare a fare queste riaggressioni per essere messi bene sulle preventive nelle loro ripartenze la gazzetta dello sport due cose una una al volo da un punto di vista proprio numerico secondo lei a quant'è la quota scudetto e poi una cosa che mi interessa più importante la adesso si è di fronte questa settimana che è finita e le prossime tre per quattro settimane quattro turni diciamo un po' di normalità cioè si gioca ogni settimana per arrivare poi alla Champions quindi dalla ripresa anche degli impegni infrasettimanali eccetera lei ha un bisogno in generale non parlo solo di domani di far salire anche il minutaggio non solo di undici ma di quindici sedici diciotto giocatori allora io non lo so a quanto è la quota scudetto è un condizionale non faccio il botone no ma non è un condizionale no lo so è un condizionale non è il mio modo di parlare di ragionare il mio modo di parlare è quello che che abbiamo un pochettino per essere concreto per esempio ma non lo so io non lo so se è matematico se non è matematico non lo so è un conto che non so fare io so dei conti più semplici più facili che se si vince la partita sa 53 e si gioca quello lo so fare quello è un conto che mi piace fare che mi piace portare l'attenzione dei calciatori poi il minutaggio glielo facciamo domani l'altro mattina perché quelli che non hanno giocato debbono andare più forte per riuscire a giocare a fianco del compagno e organizziamo una partita con la primavera apposta per fargli fare il minutaggio dove gli si fa fare una gara vera come le ultime volte le abbiamo fatte fare in inferiorità numerica per trovare difficoltà e andare più forte perché poi anche se sono calciatori con un po' meno qualità ma sempre calciatori che giocano nel Napoli nella primavera del Napoli che sta facendo molto bene allenata molto bene come tutti sappiamo e quindi lì fanno un minutaggio per farsi trovare ancora più pronti la prossima partita Corriere della Sera edizione Napoli La Roma tra le caratteristiche che ha è la forza sulle palle inattive ha fatto il 40-42% dei gol dalle palle inattive nell'affrontare una squadra del genere si cambia qualcosa nella preparazione c'è più attenzione oppure chiede di avere sempre lo stesso atteggiamento ma la Roma la Roma è una squadra addestrata bene molto bene a prendere vantaggi su qualsiasi situazione di gioco della partita anche quella lì aiutati dalla fisicità ma aiutati anche da un allenatore pragmatico ed esperto come come Murigno che ha fatto un calcio dove dai calci piazzati se ne traeva in maggior numero dei risultati per per vincere le partite e noi lo sappiamo noi come lui conosce noi noi conosciamo loro sappiamo quelle che sono le loro qualità le loro caratteristiche e noi dobbiamo essere bravi a mettere dentro le nostre qualità come abbiamo sempre fatto il mattino si buon pomediggio la Roma per lei rappresenta qualcosa di davvero importante credo nella sua vita calcistica qualche settimana fa Totti parlando di lei tornando a parlare di lei ha detto non vedo l'ora di riparlare a Luciano Spalletti anche lei ha lo stesso desiderio certo se lui ha piacere di riparlare con me perché io dovrei fare in maniera differente anche per me sarebbe un grande piacere riparlare Radio Amore mister nel match di andata ricordo un Pellegrini all'andata ricordo Pellegrini quasi come uno stalker sullo botca però sono stati bravi anche i giocatori esterni i difensori esterni ad accentrarsi e poi allargarsi sulle fasce penso che anche Politano è stato fondamentale in quel match lei dal punto di vista tattico cosa si aspetta questa volta da Mourinho e cosa ha detto i suoi ragazzi per preparare questo match quello che ci può dire chiaramente io devo far liberare lo bocca dalla marcatura di Pellegrini allora se Pellegrini è bravo così sì sì ma devo 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 far questo se la loro attenzione è quella di marcare i miei giocatori io devo stare attento a smarcarmi invece noi dobbiamo stare attenti anche a a quelle che sono le qualità di Di Balla di Pellegrini che sono molto bravi a premiare la gamba dei calciatori come Abram come Charavi ve lo dicevamo prima la precisione delle loro giocate sulla corsa dei compagni sui ribaltamenti di fronte improvvisi anche l'abilità nel calciare in porta a calciatori come Pellegrini e come Di Balla sono queste le cose a cui noi dobbiamo fare attenzione perché poi se perderemo molti palloni e non saremo bravi a fare le riaggressioni feroci immediate noi ci troveremo a dover ricomporre l'assetto di fase difensiva molto distante al luogo dove perdiamo palla saremo costretti a delle rincorse fino dentro l'area di rigore perché come si diceva prima loro hanno quello di obiettivi la riconquista e la verticalizzazione se uno guarda anche l'ultima partita gli ultimi due gol che loro hanno segnato alla spezia c'è un po' la sintesi di quello che si sta dicendo recuperato palla due verticalizzazioni due passaggi precisi che liberano il compagno e poi si raccatta la palla a fondo campo io non la capisco nemmeno io è l'unica ho la mascherina spostati non gli sta vicino perché se no la disturbi ho la mascherina è un match diverso da quello dell'anadatta perché le condizioni si trova la roma e la roma è un match diverso sì perché quello del girone di ritorno sì è diverso poi mi sembra che che gli ingredienti della partita andandoli ad analizzare siano gli stessi perché perché loro hanno mantenuto hanno mantenuto quell'assetto tattico lì hanno quel calcio lì addosso lo sanno fare benissimo e e probabilmente ora sono per trovare una differenza probabilmente ora sono più in condizione di quello che è stato il momento in cui l'abbiamo incontrati nel girone d'andata e faranno le cose con più velocità e con più precisione ancora ecco per cui c'è da stare ancora di più attenti canale 21 salve spalletti in un momento normale avremmo definito una partita come questa con la roma una gara che si prepara da sola trovandosi a più 12 dal secondo posto quanto è complicato agire sulla testa dei suoi ragazzi è semplice semplicissimo perché noi abbiamo davanti dei ragazzi che proprio perché hanno questo vantaggio e si sono ritagliati questo vantaggio sono dei ragazzi intelligenti e dei ragazzi che sanno come si fa per cui non corriamo quello che è il rischio di dover essere meno attenti e meno pignoli nelle richieste a noi stessi poi se qualcuno si lasciasse un po' cullare così in questo momento domenica quando arriva e vede la roma davanti e vede murigno davanti loro serviranno per rimettere a posto i pensieri di qualsiasi calciatore perché si accorgeranno subito che davanti hanno top calciatori top team top coach è tutto top da quell'altra parte per cui se non diventi top subito anche tu nell'andarli ad affrontare si rischia di fare brutta figura e questo si avverte facilmente Canale 8 Mister la Roma è anche la squadra che ha fatto quattro clean sheet nelle ultime cinque partite queste prime cinque partite del 2023 questo ovviamente oltre a dimostrare una straordinaria capacità difensiva può creare anche problemi nell'avversario perché sai di doverti trovare di fronte un avversario che ti mette in grande difficoltà ritiene che possa essere la tranquillità e la pazienza forse il modo migliore per affrontare una partita del genere è chiaro che queste qualità qui fanno parte di quello che si diceva prima perché quando vai poi a tentare di andare a giocare nello stretto della tre quarti se non rimani in ordine se perdi troppi palloni se non hai quella pazienza a cui l'ideva lei di portarla da una parte all'altra anche per un paio di volte poi le corse per riconquistarla aumenterebbero per cui la pazienza è una caratteristica che noi tenteremo di avere per non perdere troppi palloni sulla tre quarti ecco qualcuno purtroppo sarà inevitabile però poi si cercherà o di palleggiare in sicurezza o di andare al di là della linea difensiva senza perderli sui piedi dove dove diventa più facile costruirci una ripartenza da questo lato Telea mister buongiorno buongiorno a lei quest'estate tutte le griglie posizionavano la Roma sopra il Napoli ad oggi invece lei si presenta a questo match con un ben più 13 le chiedo se dà indicazione sul valore delle griglie estive sul lavoro fatto da Murigno o sul suo lavoro si prende atto di quello che è stato il percorso di quello che è successo con tutta tranquillità noi non ci ritenevamo inferiori a nessuno e abbiamo cominciato a lavorare parlando di squadra che doveva migliorare la posizione del campionato precedente perché si lavora in questa direzione qui la società è stata la prima a dover a dover additare quello che era il percorso che dovevamo fare per per vestire la maglia del Napoli per soddisfare quella che è la passione dei tifosi del Napoli e siamo partiti e siamo durante il tragitto durante il viaggio e bisogna fare bene come si diceva prima passo per passo senza andare ad essere distratti da quelli che sono i panorami ce ne sono i panorami belli quando si viaggia però è meglio guardare la strada che poi si inciampa e succede con me ci si spacca calavicola anca e anche un po' di testa Napoli Magazine eccoci mister ti volevo chiedere ma Mario Rui di Lorenzo Kim Kvara e Osimena nel corso degli ultimi mesi tra questi ragazzi chi ti ha impressionato di più chi ha migliorato di più Mario Rui Mario Rui di Lorenzo Kim Kvara e Osimena mi ha impressionato mi sembra si era migliorato i racmani lo bocca lo zan e politano hanno fatto quello che dovevano fare e Zelischi sempre allo stesso modo preciso tecnico di corsa Elmas è un calciatore che ha ritrovato quella che è la sua qualità e che ci può ci può far comodo può dare il suo contributo sempre in qualsiasi momento della partita si trovi dentro per cui sono sono contento di tutti questi ultima napoleggiano mister buongiorno la settimana ha sancito il completamento della rosa è uscito Sirico è arrivato Collini cosa può dare di più questo ragazzo ad un reparto che comunque la conferma il trionfo di Merec ha fatto Firono una stagione sopra le righe grazie cosa può fare lui siccome è un portiere molto forte e ha avuto probabilmente un momento di flessione perché da un titolarissimo lanciato per grandissime squadre si è ritrovato anche a doversi sedere in panchina per cui deve ritrovare quella che è la sua tranquillità quella che è la sua forza quella che è la sua capacità e poi se ne trarrà beneficio tutti perché è veramente un portiere forte da un punto di vista fisico da un punto di vista tecnico da un punto di vista di copertura della porta perché è agile noi siamo molto contenti di averlo con noi devo fare gli auguri a murigno anche se qualche giorno in ritardo mi sarei aspettato che mi avesse invitato il suo compleanno però non ci posso fare niente sarà per la prossima volta come offeso sono rimasto un po' male ho detto perché offeso mi sarei presentato con tanto di regalo lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità bravo complimenti auguri grazie a tutti ciao a tutti Grazie.